Si sarebbe dovuta concludere entro il 24 maggio di quest'anno, ma la piscina del futuro centro paralimpico di Villanova nel Piacentino è rimasta un cantiere. I lavori sono fermi da quattro mesi e la AUSL oggi ha revocato l'appalto alla ditta che si era giudicata all'opera nel 2020 per inadempienze e ritardi, come scrive la stessa azienda di Piacenza. Avrebbe dovuto essere un centro di riferimento nazionale nell'ex ospedale Giuseppe Verdi, una struttura polifunzionale sportivo-sanitaria nel nord Italia che aveva ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro. L'impresa Idile lo scorso giugno aveva da prima richiesto una proroga di fine lavori e successivamente aveva formulato proprie osservazioni evidenziando la difficoltà a recuperare le materie prime e l'eccezionale aumento dei costi di prodotti ed energia. Le spiegazioni però non sono state ritenute soddisfacenti e meritevoli di accoglimento. Il centro parolimpico di Villanova deve assolutamente essere realizzato. Non possiamo permetterci di perdere questo centro parolimpico anche perché c'è stato detto che si sarebbe chiuso il polo riabilitativo di Villanova trasferendo la Fiorenzuola perché lì doveva sorgere questo nuovo centro parolimpico all'avanguardia. Non è possibile che oggi si fermi un cantiere. Il cantiere deve ripartire il prima possibile, il più velocemente possibile perché altrimenti sarebbe una grossa presa in giro per i cittadini e per tutto il territorio.